A ridosso delle elezioni, la società civile impegnata nelle tematiche ambientali chiede risposte ai candidati politici in merito alle questioni della green economy, dello sviluppo sostenibile, della riconversione energetica. Il settimanale Il Punto, in collaborazione con la Fondazione Univerde, ha aperto a questo dibattito con un incontro pubblico tra parte civile e candidati politici volto a indagare proposte e impegni per la nuova legislatura politica. Io credo che noi abbiamo l'esigenza di costruire occasioni di incontro e di comunicazione tra queste realtà e fare in modo che i temi dell'ambiente, dell'agricoltura, del turismo sostenibile, di queste cose che sono dimenticate dai partiti tradizionali, trovino vita attraverso la presenza di parlamentari e consiglieri regionali, in questo caso nel Lazio, che davvero trasformino in leggi queste proposte. Quali questioni vuoi portare oggi all'attenzione della classe politica? Quali le risposte che pretendete? Noi innanzitutto abbiamo fatto questo appello, questo decalogo per una economia di società verdi perché ci sembra assurdo che da un dibattito pre-elettorale importantissimo, ci stiamo giocando il futuro del Paese in queste elezioni, sia totalmente scomparso qualunque tema di carattere energetico, ambientale, climatico. Il cambio di un paradigma serio, è un Paese questo che non riesce a pagare i suoi fornitori, è un Paese che destina agli investimenti solo il 6% del suo bilancio, è un Paese che si è dimenticato della cultura, dell'università. Tra le cose che deve fare sicuramente approcciare il problema dell'ambiente nella sua totalità, in maniera unitaria. Come per esempio il manifesto di territorio zero indica una società a emissioni zero, una società a chilometro zero, una società a rifiuti zero, significa che tutti gli aspetti devono essere attenzionati contestualmente. A rispondere punto per punto alle tante domande poste, i candidati a livello nazionale e regionale degli schieramenti che hanno dimostrato maggiore attenzione alle tematiche ambientali, SEL e Movimento 5 Stelle. Intanto noi come SEL abbiamo messo come asse fondamentale intorno a cui abbiamo costruito tutto il nostro programma la riconversione ecologica dell'economia della società. La prima grande questione è che abbiamo elaborato un piano verde per il lavoro che è molto concentrato proprio sulla green economy, in particolare sulla grande opera di manutenzione del territorio per il rischio idrogeologico, la riqualificazione delle città, efficientemente energetico, le energie rinnovabili e appunto tutto il sistema agricolo che per noi è uno dei perni fondamentali per la ripresa di questo paese. Il programma che porteremo noi cittadini, portavoce in Parlamento, sarà un programma che cercherà appunto di dare un approccio nuovo, un approccio metodologico nuovo alla green economy, quindi cercare di sostenere una democratizzazione dell'energia, della produzione di energia, una produzione diffusa sui territori, capillare, ogni cittadino si deve produrre la propria energia e poi distribuirla a rete. Quindi cercheremo di supportare maggiormente le reti di distribuzione dell'energia e cercheremo di tagliare gli incentivi, in particolare i CIP6, alle fonti fossili. Come risponde ai tanti stimoli che sono emersi oggi? Qual è il suo programma di green economy che propone per la Regione Lazio? Allora, i stimoli sono stati tanti. Io credo che sul tipo di impegno siano tutti d'accordo, almeno le persone presenti qui. Forse è un po' meno chiaro quali siano le strade per raggiungere certi obiettivi. A volte la sensazione che si adottino delle soluzioni che si spendono bene dal punto di vista politico, nessuno è contrario a certi tipi di interventi, a valorizzare i prodotti locali, piuttosto che a far mangiare alle persone le cose più ecologiche o utilizzare energie alternative. Forse però non manca un po' una riflessione su quali siano le attività che realmente riducano l'impatto ambientale. 20 anni fa questo Paese e questa Regione ha scelto di competere, anziché su un modello produttivo rinnovato che vedesse nell'ambiente non semplicemente una salvaguardia, ma un modello produttivo nuovo per carrile lavoro, ha deciso di competere sul costo del lavoro. Adesso ci ritroviamo con il 70% dei rifiuti del Lazio che se ne va in discarica, una differenziata che non esiste al di sotto della media nazionale, nessun lavoro nel campo delle energie rinnovabili, mentre si può fare molto e di più perché ci sono milioni di euro dati dai fondi europei. Invece paradossalmente il Lazio paga milioni di euro all'anno in infrazioni ambientali perché non rispetta le normative europee. Tutti i candidati hanno poi firmato l'appello in 10 punti, sottoscritto da tante persone e associazioni, stilato per proporre un risanamento ambientale e climatico, ma anche socio-economico del nostro paese.